Arresto convalidato questa mattina dal giudice resta in carcere in attesa del processo il 34enne verbanese finito in manette l'altra notte per aver malmenato il suo bambino di appena tre anni in strada. Anche alla luce delle precedenti denunce presentate dalla madre del piccolo, sia i carabinieri che alla polizia, per percosse da parte dell'ex compagno, sono state disposte anche delle misure restrittive ulteriori. Quando uscirà dal carcere non potrà avvicinarsi né al bimbo né alla madre e ai luoghi da loro frequentati. Il bambino ha fidato la mamma e i nonni materni. No comment al momento da parte dell'avvocato difensore dell'uomo, Ruka Ruppen. Il peggio è stato evitato solo grazie all'intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile, della stazione di Verbagna e della stazione di Premeno, chiamati dai vicini, che hanno faticato non poco per fermare la furia dell'uomo che era completamente nudo e probabilmente sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, come verrà comunque acclarato dagli esiti degli esami tossicologici. Solo la competenza e la velocità di intervento dei militari, guidati dal capitano Cristian Tapparo, ha potuto fermare la violenza assurda e inaudita. Il bambino ha riportato lividi e tumefazioni che guariranno in una decina di giorni, secondo la diagnosi dei pediatri dell'ospedale Castelli, mentre sarà difficile curare il terribile trauma subito con la violenza cieca di chi avrebbe solo dovuto amarlo e proteggerlo.